Pari senza reti al Fittipaldi tra Francavilla, Insigne e Fidelissandria per chiudere la regular season con importanti verdetti. Il primo è quello della salvezza diretta dei Lucani che saranno ancora i nastri di partenza della prossima Serie D. L'altro è l'imbattibilità dei Biancazzurri che prosegue da 14 partite e da ben 5 gare senza subire reti. Migliore difesa di tutta la Serie D e testa subito la gara di mercoledì dove i Biancazzurri affronteranno il Bitonto nella semifinale play-off. L'Andries, Leonetti e Nolea a guidare l'attacco di Lazic che schiera i suoi con il classico 4-4-2. Modulo confermato per Gigi Panarelli il 3-4-1-2 con però qualche novità rispetto al match vinto contro il Lavello. Petrarca tra i pali e un turno di riposo per Fontana e Manzo con spazio a Paparusso e Monaco. In avanti minuti preziosi per Mariano e il ritorno titolare di Acosta. Partono subito forte i padroni di casa che recriminano dopo neanche 5 giri di lancette. Il direttore di gara fischia un penalty per l'atterramento di Nolea ma l'assistente di gara richiama l'attenzione del signor Sicurello e segnala il fuorigioco dell'attaccante Lucano. Nulla di fatto e allora replica subito Mariano il più attivo in avanti a calciare dal limite dell'area palla sopra la traversa. Sempre Nolea il più pericoloso invece dei suoi recupera palla a centrocampo e si ritrova tu per tu con Petrarca. Bravissimo Paparusso a contrastare il tiro che finisce tra le braccia del numero 1 biancazzurro. La gara vive soprattutto difolate ma per lunghi tratti è piuttosto noiosa. Del Col non trova l'impatto giusto con la palla da ottima posizione ma è ancora Mariano a replicare con il suo tiro a giro all'alba della mezz'ora che resta troppo centrale. Ancora Del Col raccoglie un rimpallo e sbaglia un rigore in movimento calciandolo sul fondo. E' sempre Mariano a mettere i brividi ai padroni di casa e a 5 dal termine costringe una gran parata. Cefariello che si rifugia in angolo un minuto dopo sempre l'attaccante andriese calcia al volo in bello stile un cross di avantaggiato ma il suo tiro non inquadra la porta di un soffio. Semeraro con la testa debolmente non impensierisce invece allo scadere la porta difesa da Petrarca. Nessuna rete al termine del primo tempo è ripresa con gli stessi 22 in campo e con la stessa intensità dei primi 45 minuti. Leonetti in rovesciata ci prova dopo neanche un minuto, palla alta, iniziano i cambi per i due tecnici, Cerone lascia il posto a Prinari. Ma il Francavilla rendersi pericoloso con Navas che tutto solo su assist di Semeraro non riesce a trovare il gol del vantaggio. Nolè praticamente a porta libera, non inquadra lo specchio e la calcia fuori alla sinistra di Petrarca. Il ritmo però cala vertiginosamente, si fa sentire la stanchezza mentre il Francavilla bada a non subire. In campo ci va anche di schiena per la Fidelis classe 2003 al suo esordio stagionale e dopo otto mesi si rivede sul terreno di gioco anche Calogero Minacori, infortunatosi gravemente ad ottobre nel match a Sorrento. La punizione fiacca Dino Lè attorno al quarantesimo. Chiude di fatto il match, testa alla prossima stagione per il Francavilla dell'Eterno Lazic. Test a mercoledì invece per la Fidelisandria di Gigi Panarelli che dopo aver conquistato un impensabile alla vigilia, terzo posto finale con 61 punti, ora disputerà al Degli Ulivi la semifinale playoff contro il Bitonto. Inizio match previsto alle 16, prevendita in partenza già dalla giornata di lunedì pomeriggio.